Il vertice di Singapore dalla Nord Corea non c'è più alcuna minaccia nucleare. Così il presidente Trump al suo ritorno dallo storico incontro con il leader Kim Jong-un. L'inviato Claudio Pagliara. Prima di me sembrava inevitabile una guerra, ora non più, andate a letto tranquilli. Con un tweet Trump risponde a chi lo accusa di aver licettimato un dittatore ottenendo in cambio promesse vaghe. Kim Jong-un ieri si è impegnato alla completa denuclearizzazione della penisola coreana. La dichiarazione congiunta però non dice né come né quando. Spetterà ora a Pompeo condurre non facili negoziati con la controparte sull'attuazione dell'accordo. Nelle prossime ore il segretario di Stato incontrerà i leader sudcoreani e giapponesi per un briefing sull'esito del summit. Seul inizialmente colta di sorpresa dalla decisione di Trump di sospendere le esercitazioni militari congiunte a largo della penisola coreana. Ma già oggi il presidente Moon fa sapere di essere d'accordo sulla necessità di gesti distensivi. La notizia della sospensione dei giochi di guerra alleati data con la consueta enfasi dall'annunciatrice norcoreana delle grandi occasioni. La stampa di Pio Young pubblica in prima pagina le foto di Trump e Kim che si stringono la mano. Non si fa accenno invece a questo video. Trump l'ha mostrato a Kim nello sforzo di persuaderlo a rinunciare all'atomica. I missili norcoreani tornano indietro. Al loro posto spuntano cantieri e industrie high tech.